Amarezza sì, tanta, inevitabile e giustificata, orgoglio pure, l'orgoglio enorme e sacrosanto di aver fatto comunque qualcosa di straordinario ed essere arrivati ad un passo da realizzare un doppio grande sogno, alzare il trofeo nazionale di Coppa Italia di Lettanti dopo aver vinto quello regionale e conquistare la promozione in serie D. La duplice impresa invece non è riuscita la Vigortrani sconfitta dal San Gheorghe nella finale giocata ieri pomeriggio allo stadio Gino Bozzi di Firenze, 2-0 il risultato finale in favore degli altoatesini a segno a metà del primo tempo con Ziviani e alla mezz'ora della ripresa con Ricci, i biancazzurri di Massimo Pizzulli sostenuti nella trasferta toscana da oltre 2.000 spettatori hanno mancato tante occasioni in attacco. È stata una finale un po' strana, 20 minuti penso dove noi potevamo fare di più nella fase realizzativa nel senso che abbiamo creato queste due o tre situazioni pulite per poter far gol, siamo stati poco precisi purtroppo è stato anche un difetto di quest'anno, insomma lì davanti abbiamo sempre sprecato troppo e siamo sempre stati un po' poco lucidi, è vero, la squadra è molto giovane, abbiamo giocatori giovani quindi devono crescere poi c'è stato questo gol, chi dice con la mano, ma interessa relativamente perché dal momento del gol loro siamo andati un po' in difficoltà insomma avevamo molti ragazzi che quasi tutti fanno, è la prima volta che facevano una finale forse la pressione, ecco lì c'è stato 20 minuti dove loro secondo me potevano anche farci il secondo gol potevano sfruttare questo nostro appannamento secondo tempo siamo entrati bene, i cambi sono andati bene, abbiamo rimesso loro nella loro metà campo abbiamo avuto di nuovo le occasioni, bravo il loro portiere imprecisi noi, ecco purtroppo abbiamo sbagliato di più loro, poi hanno fatto questo tiro in porta dal limite dell'aria al volo l'hanno messa nell'angolina, ecco la differenza è lì la precisione forse nel concludere l'azione, loro sono stati più precisi di noi merito loro, faccio i complimenti al San Gheorghen perché alla fine ha meritato probabilmente anche questa vittoria perché è stata più precisa di noi Seconda finale di Coppa Italia di Lettanti, persa in carriera da Massimo Pizzoli dopo quella del 2013 alla guida del Cerignola sconfitta, dicevamo che però non può cancellare quanto di buono fatto durante l'arco di questa stagione dalla sua vigor capace di fare cose eccezionali sul campo ma anche e soprattutto di risvegliare la passione calcistica dei tranesi chissà se la finale raggiunta in Coppa sarà sufficiente comunque per approdare in Serie D attraverso la porta di servizio di sicuro per provarci sarà fondamentale potenziare l'attuale base societaria Io devo solo ringraziare i ragazzi, dispiace ecco, speriamo insomma che questa caloppata possa servire per un ripescaggio perché comunque ci potrebbe anche stare quindi tutti i sacrifici di quest'anno andrebbero ripagati con un eventuale ripescaggio comunque sì abbiamo fatto un grande percorso, mi dispiace soprattutto per questi tanti tifosi ciò non toglie che l'entusiasmo che loro hanno dimostrato meritavano questa Coppa meritavano di vincere, di andare in Serie D sul campo e questo è il maggiore dispiace, ripeto, molto dispiaciuto per loro grazie grazie